Benvenuti sul mio canale. In questa seconda parte del video parleremo delle restanti quattro donne serial killer più agghiaccianti di questo mezzo secolo. Non ve lo perdete. Numero 4. Joan Christine Deney. Nata nell'agosto del 1982, nell'Earthfordshire, era una madre assente di due bambini al momento degli omicidi. Nel periodo tra 2010 e 2013 confessò a un suo conoscente, Liloide, di voler prendere di mira nuove uomini durante la sua follia omicida, dicendo comunque che non avrebbe desiderato uccidere donne con dei bambini. Il desiderio di Deney era quello di divertirsi e di essere come Bonnie e Clyde, accoltellando gli uomini per solo intrattenimento e per volersi divertire. Dopo il primo omicidio dichiarò di averci preso gusto. Tra gli omicidi ci fu Kevin Lee, un suo amante segreto, nonché il padrone di casa dove resideva. Dopo un certo periodo incontrò un cittadino polacco in cui aveva un comune interesse, cioè quello per l'alcol e la droga. Una sera lo attirò in una proprietà disabitata, con degli sms molto suggestivi, dove al loro incontro lei lo pugnalò al cuore, per poi smaltire il corpo in una fossa. La polizia dichiarò attraverso analisi forensi degli schizzi di sangue che l'omicidio fu brutale e incredibilmente sadico. Durante l'indagine si scoprì che anche un altro coinquilino era scomparso, John Kappman, un veterano di guerra, ucciso presumibilmente nel sonno, perché fu trovato un materasso sporco di sangue nel giardino. Alla fine, John e un suo amico, nonché complice, cercarono di uccidere altri due uomini, ma fallendone l'intento. I due uomini in realtà sopravvissero e riuscirono a identificare lei e il suo complice. Dopo il processo, John venne dichiarata colpevole di tre omicidi e due tentati omicidi, meritandosi il carcere a vita, mentre per i due complici si aggiudicarono dai 14 ai 55 anni. Il giudice Spencer, che seguì il processo, ordinò che John non venisse mai rilasciata, a causa della sua premeditazione negli omicidi e per la sua indole sadomaso. Nato il 21 luglio 1970 a Como, gli sono stati attribuiti tra i 15 e i 18 omicidi, di cui 5 sono accertati. All'età di 15 anni, incominciò a soffrire di depressione e di anoressia nervosa, ma rimase comunque una ragazza molto tranquilla, avendo però un rapporto difficile con la madre, in quanto affermava molto spesso di non avere motivi per cui vivere. Così Sonia dichiarò che rimase molto condizionata negativamente dall'atteggiamento della madre, che si ripercosse sulla sua adolescenza e sulla sua età adulta. Negli anni 90, Sonia frequenta corsi di infermieristica nell'ospedale Valduce di Como e sempre in questi anni ebbe un matrimonio che durò meno di un anno, per i continui litigi, per poi avere una convivenza con un radiologo. Negli anni 2000, lavorava presso due ospedali di Como, in diversi reparti, ed è proprio in questi anni che lei ebbe un crollo psicologico e tentò di suicidarsi più volte, mentre tra il settembre 2003 e novembre 2004 provocò la morte di 18 persone, venendo poi scoperta dalla direttrice, che informò la procura. Il 14 dicembre 2007 venne condannata per 5 omicidi accertati e 2 tentati omicidi, anche se il procuratore generale aveva chiesto l'ergastolo, grazie al rito abbreviato, la condanna fu ridotta a 20 anni di reclusione, suscitando grande rabbia da parte delle famiglie delle vittime. Ma nonostante tutto, il 25 ottobre 2018, Sonia venne liberata scontando soltanto 14 anni di carcere. Durante quegli anni, Sonia affermò queste parole. Mi dispiace molto per quello che è successo e chiedo perdono se è possibile. Non volevo che finissero così quei pazienti. Io praticavo quegli interventi perché mi piaceva che tutti accorressero in tempo a cercare di salvare i pazienti. Nonostante ci siano poche informazioni su questa donna killer, sappiamo che è nata il 4 ottobre 1968 a Granfam e lavorava come infermiera nel reparto pediatria della sua stessa città. Qui, nel maggio 1993, venne condannata a 13 ergastoli per aver ucciso 4 bambini, di aver tentato di ucciderne altri 3 e di aver causato gravi danni fisici ad altri 6 bambini. Questi reati sono stati commessi in un periodo di due mesi, tra febbraio e aprile 1991. La polizia non è stata in grado di stabilire come sono stati eseguiti alcuni omicidi, mentre in alcune vittime sono state trovate grandi bolle d'aria nel corpo e grandi dosi di insulina. I genitori di Katie Phillips chiesero ad Elite di battezzare la loro figlia, perché erano grati delle cure che aveva prestato la piccola. Ma i genitori non sospettavano che era proprio a causa sua che la loro figlia rimase invalida, dopo che tentò di ucciderla con un sovradosaggio di insulina e potassio. Numero 1. Janine Jones. Nata nel Texas il 13 luglio 1950, fu adottata dai proprietari di un nightclub, dove lavorò come estetista prima di frequentare la scuola infermieristica verso la fine degli anni 70. Si sospetta abbia ucciso più di 60 bambini, mentre lavorava come infermiera nell'ospedale di Bixar County Hospital, nell'unità di terapia intensiva pediatrica. Ma l'ospedale non portò avanti le indagini. La Jones si trasferì in una clinica di un pediatra a Kerville, in Texas. Qui in seguito venne accusata dell'avvelenamento di sei bambini. Il medico, nella sua clinica, trovò dei furi in una bottiglia di succinilcolina, un potente farmaco paralittico ad azione rapida, che causa una paralisi temporanea dei muscoli scheletrici, compresi quelli che controllano la respirazione. Solitamente questo farmaco veniva utilizzato nell'anestesia generale. Nei bambini piccoli, di solito, l'effetto collaterale più frequente era l'arresto cardiaco. Così la Jones venne accusata di omicidio di almeno due bambini, ma si sospetta che ne abbia ucciso più di 60, soprattutto nell'ospedale dove lavorava in precedenza. Ma le indagini furono confusionarie, in quanto molti documenti vennero distrutti o andate perse. Da ricordarsi che in America la sanità è privatizzata, quindi la società che aveva assunto la Jones, per evitare ripercussioni, nel caso in cui fosse responsabile, di negligenze, abbia probabilmente manomesso i registri di attività della Jones. Di conseguenza, il numero esatto delle vittime rimane tuttora sconosciuto. Nel 1985 è stata condannata a 99 anni di carcere, per l'omicidio di due bambini. Nel 2018 era stata nominata per il rilascio, ovvero al completamento di un terzo della pena prevista. Per evitare questo, fu incriminata il 25 maggio 2017 per l'omicidio di altri tre bambini. Così il giudice di Sant'Antonio ha rifiutato la richiesta di archiviazione delle accuse. Così fu nuovamente condannata all'ergastolo, e non potrà beneficiare della libertà condizionale, fino a quando non avrà circa 87 anni. Queste erano le storie più agghiaccianti di alcune donne di questo mezzo secolo. Se il video ti è interessato, iscriviti al canale o metti mi piace, e lascia un commento per sapere la tua. Ci vediamo al prossimo video.